Saluto, saluto tutti i miei amici youtubisti, ma tutti, anche i nuovi iscritti, anche quelli di prima. È la vigilia di Natale. Per me è un giorno come un altro. Anzi, peggio, sono rimasto in casa a meditare, a riflettere il mio percorso reale della mia vita artistica. Ora sono 17, esco di casa per fare un giro perché desidero camminare, camminare. Io il Natale lo ritengo come un giorno normalissimo, non una buffata romana. No, no, un giorno normalissimo come un pranzo, anzi, più misero di tutto l'anno. Io appartengo a questa mentalità perché veramente il Natale deve essere una cosa di chiesa, non una pubblicità o una buffata nel mangiare rendersi come porchi. No, no, non appartiene alla mia idea. Mi sono sempre ribellato a ciò, al volere, al volere mangiare così tanto proprio quel giorno. No, lo ritengo un valore più cristiano. E intanto me ne approfitto in questo momento di salutare le persone che mi rispondono ai commenti, sempre sul mio canale e auguro loro un felice giorno, come se un giorno in più appartenesse a questi 365 giorni annuali. Un qualcosa che imprime nella mente un senso di meditazione, di riflessione del percorso vitale, che la vita scorre come il fluire di un torrente, che la vita scorre come il cambiamento metaforfico, diciamo pure del pensiero umano. E devo dire, devo dire che la vita scorre, rimane dei pochi ricordi che mi possono dare un senso di attitudine, di sollevamento morale tramite gli utubisti che ho conosciuto nel rapporto di amicizia tramite questi video. Ora vi saluto, scrivetemi tutto ciò che volete. Aldo, oggi esco abbastanza tardi, ma l'importante è uscire, camminare, camminare, per poi dopo, al 7 gennaio 2021, volerò, volerò nel cielo della Valtellina, della Val Chiavenna, nei altri cieli dove mi proiettano in me visione ottiche veramente belle, belle. Ciao da Aldo.